Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Che salga da Mattarella alla coalizione centrodestra, vedremo salire insieme Berlusconi, Salvini, Meloni e Lupi? Secondo te? Quanto mi quoti questa possibilità? Siamo certi? Sì? Al momento direi di sì. E questo sì è un brutto sì perché è un brutto trio che va insieme, non stanno insieme, non sono insieme, non pensano insieme, non vogliono insieme. E andare insieme dal capo dello Stato è andare a approfittare della pazienza infinita del capo dello Stato per raccontargli cose non vere oppure falsificate da ciascuno secondo il proprio punto di vista. Quindi da una parte ho il timore che vadano davvero insieme perché vogliono mantenere la promessa che è stata fatta agli elettori e dall'altra temo che questo sia un modo di fare delle brutte consultazioni, di dirsi delle cose stonate o sbagliate e di preparare una formazione ministeriale che non potrà che essere di quarto ordine, non potrà che essere di ordine molto basso. Ti aspetti che alla fine delle consultazioni, quando dichiareranno, Berlusconi tenterà di prendersi la scena? Ma a quanto pare lasciano fare a Berlusconi le cose che Berlusconi desidera fare perché si comporta come la persona che non sta bene nel gruppo e se dice quelle cose il povero uomo bisogna proprio che le dica e bisogna lasciargliele dire. D'altra parte il povero uomo è ancora un uomo di potere con la capacità di mobilitare una quantità di persone, di raggiungere una quantità di centri di potere e di conseguenza è una disgrazia, un vero torto fatto all'Italia e un vero grave dispetto fatto a questo presunto prossimo governo della Meloni. Quindi sbaglia chi tratta con sufficienza i comportamenti di Berlusconi e in realtà Berlusconi ha un disegno preciso e se sì, quale? Cioè perché queste parole su Putin? Perché l'atteggiamento con Giorgia Meloni? Forse dividerei in due parti. L'atteggiamento su Putin è il suo atteggiamento su Putin. Una parte dell'Italia e una parte dei leader italiani sono filorussi, sono filoputin, sono anti-Ucraina, sono per la guerra e di conseguenza è naturale, purtroppo è naturale che Berlusconi dica le cose che dice. Di tutto può essere accusato meno che di essere un falsario. Sta dicendo esattamente ciò che pensa, ciò che vuole e ciò che vuole che pensino e capiscano di questa tragedia gli italiani. Mi sarei aspettato una Meloni, e forse abbiamo ancora il tempo per avere questa parte dello spettacolo, una Meloni violentemente opposta a Berlusconi e fortemente capace, tenacemente capace di spingerlo indietro e di escluderlo dall'inquadratura. E' arrivata la risposta e la dichiarazione della Meloni, adesso ci facciamo aiutare da Goffredo. Sono Goffredo.